Allora, torno a fare questi video perché alcune persone mi hanno chiesto di fare una sorta di recensione sull'esame orale e quindi faccio la mia recensione dell'esame orale sperando che possa servire a chi ancora non ha dato l'esame A me è andata abbastanza bene per quello che riguarda la tesina, me l'hanno fatta esporre tutta, sono stati contenti Il problema, se si può chiamare problema, è quando sono passato a fare tutte le materie La mia professoressa di scienze mi aveva chiesto su quali argomenti ero più ferrato Io giustamente ho detto margini divergenti e stelle, mi ha chiesto le stelle, mi ha chiesto i margini divergenti E fin là, liscio come l'olio Passo a matematica, che mi guarda e fa Prima ho sentito che hai parlato di margini divergenti Sì E qual è la relazione fra la matematica e i margini divergenti? Io le ho dato la mano e me ne sono andato Cioè no, relazione fra i margini divergenti e la matematica Nella mia mente, già non c'è niente, se tu ci vuoi mettere roba che non esiste neanche nella logica Io vado in crisi Fortunatamente la prima cazzata che mi è passata in testa erano i limiti Quando ho detto i limiti, le ha fatto Bravissimo, come ci sei arrivato? Poteva mai rispondere Culo? No Ho detto che ce l'ho arrivato per il ragionamento che i margini formano le montagne E quindi si era creato tutto quell'essere dei limiti, i punti e le cose Quindi quando poi matematica mi ha mandato Nella mia mente ho pronunciato quelle parole cafone che non ripeterò nel video Sono arrivato a filosofia che mi ha riservato un'altra sorpresa Poiché la mattina prima mi aveva chiesto Cosa è che sai meglio? E io ho fatto Professoressa Storia possiamo andare tranquilli Poiché storia mi può chiedere la NEP La nuova politica economica di Lenin E se vuole farmi una certa domanda Lo scoppio della seconda guerra mondiale Per storia la prego di chiedermi Kierkegaard Perché è quello che ho ripetuto meglio Arrivo là E storia mi fa Dimmi la NEP E le dico la NEP Passiamo a filosofia Io così nella mia mente ho già stato per dire allora Kierkegaard E lei Mi parli del capitale di Marx? Vabbè per parlare del capitale di Marx è inevitabile fare il collegamento con Kierkegaard C'è cazzo mi hai fermato tu a prima mattina per dire che cosa sapevo Mi vai a chiedere Marx alla politica di Marx Meno male che la sera prima aveva avuto un incontro pacato col mio inconscio Che aveva detto ripeti di Marx Va a finire che ti fare la domanda a cazzino su Marx Mi ha fatto la domanda a cazzino su Marx Meno male che l'ho saputo E quindi poi sono passato italiano Che mi ha chiesto cose inerenti alla tesina I De Marte Mi sono inventato nuove forme di arte Che fortunatamente esistevano E inglese mi ha fatto parlare dei film che mi piacevano E mi ha chiesto domande inerenti anche alla tesina Il presidente poi mi ha fatto vedere gli scritti Sono andato abbastanza bene Quindi l'orale è andato Il consiglio che vi do Non vi fidate dei professori che vi chiederanno delle cose No a parte scherzi La commissione è stata abbastanza tranquilla I professori ci hanno aiutato tanto Quindi quello che dico Andate lì sereni E soprattutto quando vi alzate dalla sedia Pensate due cose La prima vi siete tolti un peso E la seconda siate fieri di voi stessi E di quello che avete fatto Ciao a tutti e in bocca al lupo A chi ancora non ha fatto l'esame